Ospitiamo oggi l'allegra compagnia della Conci Events. Siete pronti per il 6 febbraio? C'è tutto lo staff praticamente. Devo dire che siamo emozionati. Lo staff e il casting della serata è quasi tutto pronto. Ci saranno assieme a questi ospiti che abbiamo in studio anche Paola Marotta di Amici, gli angeli danzanti che sono dei ragazzi che fanno un mimo davvero strepitoso. E siamo in pre-imitazione perché adesso manca davvero poco. Giorno 6 alle ore 21 dinanzi alla Chiesa Madre. Io ringrazio tutti i partecipanti. Colgo l'occasione per dire ai genitori di portare i bambini in maschera. E ai ragazzi grinta. Quanti sono i ragazzi che seguite al momento Giuseppe? I ragazzi che seguiamo sono 100. Per l'occasione verranno ragazzi da Siracusa, da Palermo. Alcuni che hanno iniziato il percorso con noi adesso fanno i presentatori, radio e tv. Per noi è un orgoglio e vogliono ringraziarci essendo presenti nella serata di giorno 6. Grazie a tutti.